Per chi si stesse chiedendo di cosa diamine stavo parlando nel primo episodio, intendevo quella barretta lì, che minchia ci fa lì, come Bruce. Ciao a tutti, sono Isaac e... oh mio Dio, non mi ricordo... non mi ricordo volevo di essere qui? O almeno... le lavatrici! Sono lavatrici vero? Spero di sì. Le asciugatrici! Ok allora, siamo di nuovo qui su Dead Space per continuare la nostra avventura. Da che parte eravamo arrivati? Aspetta, allora vediamo, noi dobbiamo andare di qua quindi andiamo da tutt'altra parte per capire appunto dove diamine eravamo. Allora, noi siamo partiti da qui e mi stavo chiedendo, che cavolo di fine ha fatto la finestra che abbiamo fatto esplodere? No aspetta, noi da che parte siamo entrati? Cioè siamo entrati in questo posto? Ma non c'è niente qui. Oh guarda, stavo perdendo 800 crediti, guarda. Ah ecco, da qui siamo entrati. Abbiamo le case che si rimarginano da sole, cioè si rimangia... rimangia boia, perché non riesco a parlare? Abbiamo le case che si rimangia... ok mi arrendo. Abbiamo le case che si rimarginano da sole, cioè... Cioè noi siamo entrati da qui? O da lì? Non vedo nessun buco nella finestra, che cavolo di... Aspetta, forse da qui siamo arrivati. Aha! Eh sì, siamo arrivati da qui, solo che è bloccato. Aha, ok, perfetto. Comunque, bel casino, complimenti. Dunque. Andiamo avanti. Di qua, aspetta, però si è reclusi anche di andare da sta parte, no? Cosa c'è da sta parte? Apertura. Uh, bel posto. Sbaglio o l'abbiamo già visitato questa? Mi pare che eravamo lì sotto, tipo in qualche episodio fa. Siamo ancora qui? No, ok, perfetto. Siamo ancora qui? Oh cavolo. Ok, siamo tornati indietro. Vabbè, mi pare ovvio, dopo tutto, perché dobbiamo trovare quel tizio, quindi... Dovido che quel tizio si sia teletrasportato fuori da Saturno. Non siamo neanche a Saturno, siamo in un satellite di Saturno. Via! Quel cosa stava lì... Stava levitando, non lievitando come dice Tag. Ok, allora... Via, 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 è creepy sta cosa, cioè... Ok, va bene. Salite cagate degli unitologisti, via. Cosa sono sti rumori? Mi fai paura a te. Mori, ora non farai più paura. Ok, allora via, 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 via. No, aspetta, qui cosa c'è? Eh, 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 eh. Ho spottato... Oh merda, oh merda, oh merda. No, 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 sta zitta, sta zitta, sta zitta, sta zitta, sta zitta! Via, via, non ho fatto niente io. Il sveglio ce l'hanno con me. Minchia, l'architetto proprio aveva un sacco di fantasia. Loro avevano paura di noi. Dopo quelle sedute, ci hanno portati al macchinario. Per le sedute, per le fasi. Non ricordo nessuna seduta. Sei fortunato a non ricordare. Se lo fai, tutto ricomincia. Chi? Chi è Cato? Chi? Sei bloccato! Guardati! Quando sei cresciuto! Dove vai? Non è lì davvero! Ok, tutto ricomincia. Eh, morto. Ok, allora. Ah ok, no, non c'è niente. Endgame? Siamo su Battlefield? Ti è Edman? Chi è Ti Edman? Aspetta, siamo ancora qui. Ecco, infatti. Pooj! Ciao! Da quanto tempo? Allora, la testa. Che schifo. Ancora. Perché cagano quando... Oh, merda! Aiuto! Sono morto? Così a caso? Poi, quest'arma... E' inutile. Cos... Via, 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 attiva! Ehm... Oh no! Oh no, oh no, oh no! Quanto casino fanno quando muoiono assieme? Ah, guarda, una monetina! Oh cavolo! Oh cavolo! Morite! Da quando sapete volare? Ok, sono morti, vero? Eh! Per essere un cosino così piccolo farò veramente tanto rumore. Allora... Te ora... Le! Oh merda! Quanti micchia siete! Ah! E' creepy sta parte, veramente! Via! Ah ah! No, perché l'hai buttato via? Potremmo... Ricarico... Oh mio... Dov'è l'ultimo? Eccolo! Merda! No, 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 no! Dannazione! Il problema è che... Quanti micchia sono! Quanti micchia sono! Sono soltanto 70! Danna, Dead Space e la sua fase horror funziona benissimo! Danna, è soltanto un po' di action! Dai! Ma... Ho finito tutti i colpi! Non ho munizioni! Credo di aver fatto più cadavere io che Hitler in persona. Comunque... Comunque... Non so cosa diamine si è successo. Praticamente sono arrivato qua. Ho comprato tante munizioni prima che arrivassero l'orda e poi li ho fatti fuori tutti. E ora cosa dite, eh? Non mi fate più fuori, eh? Eh? Basta! Mori! Dunque... Odio quando Dead Space fa sti tiri qua che diventa un gioco action. Quindi... Andiamo avanti. E là! Un'altra cabina chiusa! Ci sarà qualcosa? Tipo una cutscene! Ah no, c'è un corridoio in là. Ehm... Questo... Sento qualcuno di là. Che schifo è! Ma gli spazzini qua non si stemmano i muri. Ma... Eh che c... Aspetta... Ok, di qua non c'è niente. Facciamolo fuori! Ok, sono mine. Mine da muro. Quelle che usavano nella seconda guerra mondiale. No. Oh merda, non mi ero accorto di te, scusami. Aha! Mi hai venuto un'idea! Aspetta, dov'è l'altro? Non so. Non ti preoccupare. L'ho già fatto fuori. Come se ci fosse qualcuno. Aha! Aspetta. Forse è meglio non sprecare munizioni su questi. Però avrei un'idea. No, ok. Volevo prendere la bomba mentre saltava, ma... Presa! Oh mio Dio, che schifo! Oh! Allora... Ah... Mi serve qua... Ah, giusto! Ecco perché hanno aggiunto sta arma! Per far poco danno! Se no, che cavolo sarebbe servita un'arma inutile? Bel posto, complimenti. Mi ricorda tanto Portal. Ehm... Uno di energetico. Abbiamo tanti nodi energetici, però meglio se li usiamo nelle armi. Oh, guarda qua, è un terminale. Possiamo sistemare le nostre armi. Che fanno cagare al momento, quindi... Eh... Ok, credo di aver fatto qualcosa. Ho praticamente... Chiuditi, stammate. Ok. Ho potenziato il danno di sta merda. Non so perché continuo a potenziarla. Non so, mi piace. Mi ricordo tanto la Raygun di Black Ops 2. Ho aumentato la vita del mio rig. Così si è anche riempita, a quanto pare. E poi ho aumentato la potenza di sta arma qua. No, l'ho... Un attimo l'ho... Ho aumentato il numero dei nodi utilizzati in questa arma. Così posso sbloccare... Il prossimo nodo che becco. Posso sbloccare più danno per sta arma. Quindi, adesso facciamo ancora più schifo. Andiamo! Cioè, da una parte non c'è gravità zero e dall'altra sì. Ok. Yey! Adesso... Oh merda! No! Che cosa ho fatto? Adesso sarà difficile guidarmi. No, no, la... Allora. Adesso voglio vedere una cosa. Ah, ok. Però... Io non... E io come faccio a ris... E io come faccio a sopravvivere una volta... Ho sperato questo... Ah, giusto. Devo passare nel fuoco. Dov'è il terzo Pikachu? Pikachu! 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 Aspetta. Se lì c'è... L'ossigeno... No? Ah, ah! Devo sparare al vetro. Che ovviamente saranno i proiettili per chissà quale motivo. Ah, ma io posso volare. Che cavolo sto facendo qui a terra? Non devo fare il comune mortale. Ecco qua. Le! Speriamo non arrivino nemici. Speriamo non arrivino nemici. Speriamo non arrivino nemici. Veloce, 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 veloce. Via, 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 via. Aspetta. E se rimetto un Pikachu? Pikachu, vai là dentro. Oh, abbiamo rimesso lo... Oh, cavolo. Non pensavo... Tanto me li scrivo i colpi. E c'ho anche una mira di merda, lo so. Aspetta. Dicevo. Pensavo non si potesse fare. E invece l'ho fatto. Ho rimesso lo... Pensavo che si bloccassero in qualche modo. Invece. Allora. Vestiamo i calaveri. Non mi danno niente. Però c'è un... Uno di questi, così. Che strasserve, eh. Perché prima l'ho usato contro Bugge. Pensavo non servisse. Ricorda dove si va. Aspetta, abbiamo preso un po' del Javelin qua. Ricarichiamo. Ci mette solo sette anni a ricaricare, lo so. Qua. Cos'è questo? Sa l'ascensore? Ah, c'è un Pikachu difettoso. Ok. Ok, ok, ho capito. Ci sono tre Pikachu qui pronti per avere un lavoro. Salve. Attenzione. Aspetta. Ok. Pronti? Pikachu, scelgo te! Eh, ma sei scarso, eh. Là. Qui come... Ah, questo è un ascensore. Pensavo l'ascensore dietro. Invece no, è questo. Così a caso. Apriti setta. No. Apriti. Cos'è? Devo mettere... Ah, un mercoledì. Non mi piace stare in ascensore con sto tizio, eh. Ora te... No, no, no. Ok, va bene così. Tranquillo. Le fasi. Vuole che io segua le fasi. Fase 1. Strizzare nella macchina buia. Stross, calmati. Non può farti del male. Vuole che entri nella macchina oscura, Isaac. Non posso farlo. Lei è lì dentro. Mi sta aspettando. Stross. Mio Dio, mio Dio, mio Dio. Stross, ascoltami. Devi continuare a spostarti. Riesci ad arrivare alla monorotaia? Pensi di faccia? Sta arrivando. Non posso parlare. Mio Dio, mio Dio, mio Dio. Ah, il doppiaggio. Tra l'altro, ho notato, non so se l'ho detto in una parte dell'esplay, ovviamente non mi ricordo mai niente. C'è un punto in cui il tizio, no, in cui Isaac, mi pare quando battiamo il boss nel terzo, nel terzo, nel terzo episodio. Battiamo il boss, no? Quello lì strano, che saltavano. E dice, mio Dio, quella cosa era affamata. Il problema è che in inglese diceva, mio Dio, quella cosa era arrabbiata. Hanno confuso angry con angry. E' un po' di... C'è una lettera di differenza in Italia, non è che valga... Però dico, cioè, cambia completamente parola, cambia completamente sé, però comunque va bene. Poteva anche essere affamata quella cosa, dopo tutto i necromorfi mangiano le persone. Credo. Detto questo, però, ci sentiamo alla prossima. Ciao, e alla prossima. Ciao, ehi, ciao. Devo ancora dire un paio di questo, quella bastarda. Non vorrei... Eh, mi sono andato a bordo, posso? Dai, oddio, è una roba enorme. Muore con due colpini. Grazie. Grazie. Grazie.